Ciao, sono rappresentante di Unica Creativa, siamo nati per noi e per voi. Vedete, un giorno ci si è chiesti, è vero che le regole, l'istituzione, la burocrazia servono e sono state create perché tutto vada bene, perché tutto finisce. Ma chi ha mai detto che tutto questo non debba essere affrontato senza sorriso? Insomma, una pennellata di colori vivaci. Un quadro in bianco e nero è forte, è antico, è istituzionale, ma noi l'abbiamo immaginato a colori. La nostra università è uno dei campus migliori in Europa, capace di accogliere ogni anno migliaia e migliaia di studenti e di erogare loro ottimi servizi e dei più diversi. Le persone pensano che la loro giornata quotidiana, le cose in cui sono immersi ogni giorno, possano essere modificabili solo attraverso un provvedimento di terzi, di persone che stanno in atto. Quindi aspetteranno questo provvedimento che cambi la loro vita, facendo cose perché vanno fatte. Le cose vanno così. Noi non la pensiamo così. Siamo un gruppo di studenti, docenti, amministratori, il tutto concesso dal magnifico rettore e da un grande staff che ci segue e che ci sostiene. Tutti questi, compresi voi, abbiamo una cosa in comune. Passeremo in questo suolo, lo stesso suolo, anni della nostra vita, della nostra unica vita. Allora perché non migliorare il suolo intorno a noi? Allora perché non conoscerci? Perché non passare questo periodo insieme? Perché non andare al bar o in un cubo, sapendo di conoscere di una persona? Ci siamo guardati intorno. Come miglioriamo la nostra vita? Sicuramente miglioranno l'ambiente intorno a noi, fatto di persone come noi. Come rendiamo l'università più felice e più pulita? Se nessuno butta le carte e tutti sorridessero, l'università sarebbe più pulita e sarebbe più felice. Pensi che in quel luogo ci sia bisogno di una panchina? Bene, possiamo provare a farlo. Pensi che l'azione faccia bene all'unica? Bene, possiamo provare a farlo. Qualsiasi cosa, immaginate, possa fare bene a voi, quindi al vostro ambiente, che in questo caso è l'unica, possiamo farla, ma insieme. Nel nostro sito www.unicalcreativa.it troverete ampi spazi, le tematiche che stiamo trattando, che tratteremo, vi daremo aggiornati su ogni cambiamento, compreso per esempio il box che metteremo nell'università dove potrete mettere la vostra idea e che noi poi leggeremo. Qualsiasi idea vi passi per la testa e non sapete a chi dirla, c'è unicalcreativa. Ciao!